Musica Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Cioffi. Puntata speciale anche quella di oggi dopo quella di martedì nella quale andremo a ripercorrere il viaggio di Papa Francesco in Portogallo a Fatima dello scorso 12-13 maggio in occasione del centenario delle apparizioni della Vergine. Dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto il Pontefice incontra privatamente il Presidente della Repubblica nella base aerea di Montereal e dopo una rapida visita alla cappella della base aerea stessa si dirige al Santuario di Fatima con il successivo passaggio alla cappellina delle apparizioni. In serata arriva il momento principale della giornata con la benedizione delle candele e la recita del Santo Rosario. Ci parla di tutto questo Barbara Castelli nel servizio dal CTV. Vediamo. L'ampio piazzale del Santuario di Nostra Signora di Fatima si è vestito di luce e la luce della fede e della speranza che guidano i passi del popolo di Dio. In questi luoghi i testimoni delle apparizioni della Vergine seguite nei cento anni successivi da una preghiera pressoché incessante Papa Francesco ha benedetto le candele per poi introdurre la recita del Santo Rosario. I grani della corona scivolando tra le dita delle donne e degli uomini che invocano la misericordia di Dio consentono al Vangelo di riprendere la sua strada nella vita di ognuno, delle famiglie, dei popoli e del mondo e leniscono le ferite dei diseredati e infelici ai quali è stato rubato il presente, degli esclusi e abbandonati ai quali viene negato il futuro, degli orfani e vittime di ingiustizia ai quali non è permesso avere un passato. Dinanzi a un mare di piccole fiammelle il Pontefice ha parlato di Maria, con lei che ha dato un volto umano al figlio dell'Eterno Padre, una maestra di vita spirituale e non una santina alla quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo. Ogni volta che guardiamo a Maria, ha precisato, torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto, in lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. La Vergine ci conduce al suo figlio che non negò il peccato ma ha pagato per noi sulla croce. Grande ingiustizia infatti si commette contro Dio e la sua grazia quando si afferma in primo luogo che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre che sono perdonati dalla sua misericordia. Nella fede che ci unisce alla croce di Cristo, ha concluso il Pontefice, siamo liberi dai nostri peccati, mettiamo da parte ogni forma di paura e timore, perché non si addice a chi è amato. Il secondo giorno di Papa Francesco a Fatima inizia con l'incontro con il primo ministro. A seguire la visita alla Basilica e la Santa Messa dal Sagrato del Santuario di Fatima, il servizio sulla canonizzazione di Francesco e Giacinta Marto. Un corale lungo applauso ha salutato la canonizzazione dei veggenti di Fatima, Giacinta e Francesco Marto. A loro e alla cugina Lucia, la Vergine apparve proprio il 13 maggio di cento anni fa, ricordando la luce di Dio che dimora in noi e mettendo in guardia sul rischio dell'inferno a cui conduce una vita spesso proposta e imposta senza Dio. La Messa di canonizzazione, celebrata da Papa Francesco sul Sagrato del Santuario, in latino e portoghese, è stata una vera festa della fede, soprattutto per le migliaia di persone che hanno tinto con i colori del mondo il vasto piazzale. La Madre Celeste ci mostra Gesù e ci avvolge con il suo manto di gioia e speranza ogni volta che ai suoi piedi deponiamo gli affanni della vita. Tra le sue braccia non si perdono le suppliche dei malati e dei disabili, dei detenuti e dei disoccupati, dei poveri e degli abbandonati. Nell'Omelia il Pontefice ha sottolineato che ogni creatura dovrebbe essere speranza per gli altri perché chiedendo ed esigendo da ciascuno di noi l'adempimento dei doveri del proprio Stato, il cielo mette in moto qui una vera e propria mobilitazione generale contro questa indifferenza che ci raggela il cuore e aggrava la nostra miopia. A tutti Papa Bergoglio ha chiesto di ricordare sempre che abbiamo un'ancora nel cielo, Gesù, che ha portato accanto al Signore l'umanità che aveva assunto nel grembo della Vergine Maria. Una leva che deve sostenere soprattutto i malati, prezioso tesoro della Chiesa, salutati alla fine della celebrazione. Non ritenetevi soltanto destinatari di solidarietà caritativa, detto il Pontefice, ma sentitevi partecipi a pieno titolo della vita e della missione della Chiesa. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a martedì prossimo.